Bella a tutti ragazzi e ben ritornato in un prossimo video Io sono JackProtato e oggi siamo insieme a Allora, oggi cercheremo di fare Una vittoria semplicissima Easy proprio Allora Vabbè scusate questa voce perché non ho più voce neanche Porco cara Allora metto Vabbè toglio sta parte Vabbè ci rivedremo in game Vabbè ricordare sempre ti dà c'è un veggio più lungo rara Ok, i balletti di TikTok No, io non voglio tagliare sta parte Porco Disco Va bene, Disco era per te se vedi questo video Ti vuole sfidare 1v1 Sì, mi ora Non mi vede Raga, siamo nel forgocino Mano deve mettere le cuffie Perché se no non lo sentiamo Sì, sì, sì Andiamo a corte Madonna Cosa mi è venuto prima? Spasmo Spasmo Sì, non è bello No, no, bello Viola oppure Ok Raga, dobbiamo solo Ho avuto abbastanza fortuna a trovare questo loot Però Viene solo Non serviva la tua domanda Vabbè, chi serve? Ora che ci sei Alla casa Ucciso Era wasshot Non è solo R No, no Ah, raga State chiedendo È perché Abbiamo fatto una challenge E non mi chiedete Perché quello Aveva solo il caccia Sì, non mi chiedete Sì, non mi chiedete Sì, non mi chiedete E' uno No, uno l'ho casa No, aspetta il vado Lascia il vado Lascia il vado Lascia il vado Ucciso Valle, Jake Comunque basso lo sciopo domani Ah è vero è lo sciopo domani di tutto quello che devi dire In pratica Domani si Riescerà la riescon Che non è stato riesco in basso Però basso con voi però su mio canale Di occhi di racconta in descrizione Comunque se vuoi Come hai fatto? Del 96 127 Poi dicono che non è illegale 55 da qua Va bene la procedo Invece magari il maniere tipo pacchetto a stelle Non compro una Ma non credo che ho chiuso Ma se mi rianimi magari Dov'è il furgone? 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 No mi sono coperto Lo taglia l'altra Oddio Procacciuolo Il mio cane Perfetto E il mio papà Perfetto Non si riesce a registrare i video in questi giorni Sì veramente Quarantini c'è Tutta questa persona In pratica Quando registro a lui Io è come se fossi Magari Io è come se fossi Come se fossi Gabriel Conniti E tu sei Martex Bella Tutte ragazzi Ragazzi Mi sono inventato un nuovo gioco Che potremmo fare nelle live Si chiama Il gioco degli youtuber Che io imito un youtuber E gli scritti devono indovinare Comunque stai crescendo abbastanza stretta Non mi fa ridere Non capito cosa è successo Poi io sto registrando Sto registrando il video Non so se parlare Un'era blu Un'era blu Un'era blu Ma li tiro senza di mano Questo Family friendly Mi raccomando Ma siamo una famiglia No 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 Hai colpi Checco R pump Checco R pump Checco R pump Checco Te ne do uno Perché non ne ho Credo che me ne do Tornati Ero di R Sì Quanti colpi hai Di cecchino 8 Ma dai Io non ho 7 Ma dai uno Ma dai uno Eh no Perché poi c'è un'era Io non ho 7 Quindi uno lo dobbiamo E allora ne ho 6 Dai Ma ne puoi dare uno Sì sì Mi sei No in realtà io lo puro Che male Che male Che male Mi sono fatto male tutto il corpo del personaggio Mi chiedo come i personaggi Come Fanno a correre così tanto C'è Beh Che un gioco No 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 Ma guarda che difficile No non è un gioco Dove arrivare Raga contate le mie kill Sono 8 Sono 8 Raga contate le mie kill E' una Però totali ne ho 8 Sono nati da gatto grill Il loro Messicano Come Non ho parcheggiato bene Uh Una rampina Dove io dico Dammi il tuo rampino O ne pagherai le conseguenze Ma che qua Oh Rampino è mio No io non lo mai provo Autorrompino No 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 Non è mio Dario Non è scusa Era uno come come scappa qui nel fulpo un po' caricato e' noto dal lsomico l'ho ucciso niente no dai hai il rampino no te l'ho voluto lasciare no 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 colpi a r pump mitra mi stai chiedendo troppi colpi a r mitra pump cecchino e tutti i colpi oh apri uh l'ho e ne avevo pochi infatti te ne avevo chiesti prima al tipo lì mi ha detto mi ha detto che me ne dava un po' infatti l'ho messo a terra e me ne ha dato il è stato gentile si può avere si può avere si lo so un femmini friendly il femmini friendly amini no 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 taglio tutta sta parte si giuro vabbè la madonna si può dire è la madonna no è la madonna è la madonna la madonna guarda ok ragazzi ci siamo un pochettino spostati siamo a lago siamo a lago anche se non è un lago non sarà bisogno di fare questa battuta ma si c'era c'era tutti aspettavano solo questa battuta buona respite ma dai faccio 10 kill io non ho una però rampino e sto fai tardi e ne ho più chinato e sono caduto da 300 metri oh no no scappa scappa con un trampino scappa oddio in volo tra quello che ne sono vai frappiamo che viene dove vai tra no no scappa ma che cosa è che tutti sono saltati da sto pompa minchia ti carico quello la in testo fa 220 9 229 godo mi puoi restare a lago prendimi la scheda prendimi la scheda prendimi la scheda prima che stai rampino mio urca secondo tentativo ci vedremo poi partita ah vuoi fare un altro tentativo che ora guardiamo te guardiamo che vuoi fare un altro pietro che vieni vieni che vieni 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 non lo so che male raga eccoci partito forse iscritte aveva capito ma youtube spero di no ma che fa questo la corsa del naruto si è carino deludente alla fine ma perché faccio una mandria di persona non mi piace non mi piace non mi piace non mi piace non so cosa sto facendo più che altro sto saltellando nell'acqua no andiamo facciamo 100 no non voglio mostrarmelo la faccia no sarò segreto del home gamer il giocatore solitare perché se lo era chiesto non so potresti anche mettere la bolletta con la bolletta non so io lo metterai su in te tanto alla fine ho 16 anni no no ne 13 non lo scherzo no tranquillo che quest'anno le combino beh se fosse per quello pure io le combiuti ieri l'hai compiuti ieri l'hai compiuti ieri l'hai compiuti ieri l'hai compiuti ieri tagliamo sta parte tagliamo sta parte eh raga scusa per sto taglino piccolo piccolo è una sfida tra me e lui no scherzo che sennò qua nasce la peggiorissa il peggio dissing le peggio frecciatine 07 ahah 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 ma infatti non lo so vai guarda io sono 07 ahah ue ue io sono 07 no dai scherzo tagliamo tutta sta parte ahah 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 io sono basito Sì però siamo in un video grazie E vabbè pure Non so Devo cancellare tutte le parti del mondo possibili e immaginabili Dai che scherz Mi dai quel pompa Non so Invece Mettete like se non ce l'avete Sarà uno dei più commenti Che c'è interesse Vabbè devo tagliare sta parte Ma quante parti devo tagliare Vabbè sto gioco stai sendo molto Perché devo cancellare i video Non me lo rovinare Perché tu rovini i video Questo pettacolo Va bene Vabbè 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 Dovabbè 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 quando scrivo in chapa dai prego si quando farò le live perchè mi fai tagliare pezzi già è diventato un video di un minuto ragazzi zitti che siamo l'autorità che qua è un territorio molto nascosto per le persone che sono infide tutto regolare mi dicevano wow oh il dato 22 c'è un altro tipo la sopra attacca quello lutta lo sto fai dando ma l'altro lutta è un altro tipo è un altro tipo è un altro tipo è un altro tipo mamma mia come mai era dietro di me quel tipo e mi hanno circondato ho fatto spostati spostati che si caga cosa ho fatto ma che fuori mamma mia cosa ho fatto non riesco vabbè che sono lontano 50 eh dov'è il tipo vieni con me sono qua nella montagna dietro la roccia può darsi aspetta io posso con la giampa non sono riuscito a tanto posicare ecco lì ecco lì ecco lì a terra ne hai messo un po' era morto lo stesso se morivi tu era morto vabbè tu sei lisa devo una jump e la tenia veramente in safe raga non so ditemi nei commenti se è meglio lo scar o la aug o la aug perchè sicuramente mi sembra meglio la aug andiamo in safe metto una jump dai non si vola bucciolino 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 hai sprecato la jump no no ah ok hai sprecato la jump dunque il suo compo è illegale per quelli che dicono che fanno schifo non mi dico il bene quando lo carichi quando lo carichi quando lo carichi l'ho detto pure a me è bello che all'inizio l'ho detto anche io che fico cagare è pure io direi c'è un cacciavio la qua c'è un cacciavio la qua non sui perchè l'ho preso Se può darci eh? Cioè non oro ma qualcos'altro Porco cane Grazie per l'aiuto A terra No fra una vita Eccolo Dov'è? 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 Un boss Sto curando C'è una cassa epica aspetta un attimo Levati Oh ok Posso avere quel bello shieldone? No Svilrebbe a me ma dettagli Ma tranquillo che ci sono i shieldini Aspetta Prendo questi e poi li tiriamo Tira tutti i shieldini Ai lo jump Sì Ok prendi l'auvo Hai colpi gesto Mamma mia raga qui Hai colpi gesto No metterò jump Vado Non troppo alto Perché se non ci fanno cadere Mi esplosa la visuale per due secondi Non ci sono salito Però no Non ho perso la nuova caduta Tra il mondo qua A terra uno Corri Il mio balletto preferi Questo invece mi fa schifo Il mio balletto preferi Questo invece mi fa schifo Hai colpi bump Io ho il proprio mitico del nonno Posso averlo io? Oppure la tonso mitica Madonna l'ho distrutto Madonna Yes raga Raga Come promesso L'abbia fatta Se non siete iscritti ancora Iscrivetevi Attivate anche la cappellellina Quando vi siete iscritti Mi raccomando Perché quello è un'option Spaccate con i pallicioni in su E noi ci rivedremo Ad un prossimo video Bella